Una veleggiata per la rinascita di Taranto, commercianti, imprenditori, professionisti insieme per promuovere una nuova idea del capoluogo ionico che favorisca il turismo consapevole e solidale. L'idea parte dalle associazioni Ionian Sea e Made in Taranto ed è stata presentata al molo turistico Santeligio da dove il 29 maggio prossimo partiranno alcune imbarcazioni alla volta delle vicine isole Cheradi. Nel corso della veleggiata sarà girato un video con l'obiettivo di promuovere le bellezze del territorio, le potenzialità di sviluppo legate al mare, alla pesca, alle escursioni in barca. Enza Tomaselli dell'Associazione Le Terre dei Delfini. Nel nostro progetto c'è tanta voglia di valorizzare tutte queste terre e soprattutto di tutelare il nostro mare. Un mare che vede i delfini, che lo vede oggi, lo vedeva nel passato e lo deve vedere nel futuro. Soltanto se noi ci uniamo tutti quanti e qui nel molo turistico stiamo vedendo tanti momenti di grande unione fra tante realtà diverse ed è questo molto bello, questo passaggio dall'io al noi sta caratterizzando una rinascita.